ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e il canale è maximilk e stavo cercando un glitch dei soldi un pochino come dire un po più semplificato visto che quello che c'era era un po difficile da fare ma diciamo difficile quindi questo è abbastanza semplice bisogna avere due garage separati una lg tutta modificata e partire da un garage all'altro garage arrivare con con la lg davanti al garage fino a far apparire la scritta garage piena dopodiché che cosa facciamo dopo aver messo tutti i soldi in banca e passati nell'altro personaggio andiamo a chiamare la mary weather quindi dobbiamo essere scarichi di soldi insomma è una volta chiamata la mary weather andiamo e diciamo andiamo per selezionare schiacciamo il triangolo scendiamo dalla macchina e mentre stiamo risalendo andiamo a premere x per accettare il messaggio della mary weather e ci comparerà la scritta garage pieno come avete visto nel video quindi lo potete fare con molta tranquillità è abbastanza semplice da fare una volta fatto ciò il gioco farà un piccolo lag e vi ritroverete in garage allora badate bene il glitch per funzionare dovete vedere in mappa la vostra auto nel senso che mentre sta facendo il lag se vedete comunque che c'è l'auto in mappa il glitch funzionerà sicuro al 100% altrimenti ripetete una volta messa l'auto nel garage andate a mettere anche la seconda allora ricordate ragazzi una delle due non può essere venduta perché è l'originale però tutte le altre che voi doppierete potrete venderle senza nessun problema di bypass cazzate varie insomma perché comunque la lg è un auto di lusso quindi potrete venderle una dietro l'altra allora questa mia non vale nulla perché sono con il personale secondo account quindi non ho nulla di sbloccato comunque sia l'auto vi pagherà le modifiche intorno a 195 mila quasi 200 mila qualcosa del genere e questo potrete farlo tutte le volte che volete una dietro l'altra senza nessun genere di problema l'importante è che abbiate sempre diciamo il personaggio scarico di soldi insomma che non abbiate soldi nel personaggio in modo tale che chiamando la mary weather voi possiate diciamo andare automaticamente nello store non dovete farlo velocemente come nell'altro glitch prendere la rincorsa e cazzate varie no non serve questo basta che voi fate come ho fatto io nel video e il glitch riuscirà tranquillamente come avete potuto vedere io ho venduto la prima auto e adesso vi faccio vedere che l'originale non si può vendere quindi se vi capiterà una di questi cloni che voi non potrete vendere vorrà dire che quello è l'originale ragazzi quindi quella sarà l'auto con cui andrete sempre a fare il glitch e a ripeterlo a ripeterlo in continuazione insomma questo glitch potrete ripeterlo tutte le volte che voleva che volete insomma come come vi ho già detto e quindi nulla ragazzi mi sembra un glitch abbastanza facile da fare certo quello lì che c'era prima che si facevano 12 milioni o comunque 15 milioni a volta era un bel glitch era veramente bestiale come glitch però purtroppo è stato pacciato e quindi ci è rimasto questo ragazzi un po più elaborato ho cercato di semplificarlo per voi perché comunque partire prendere la rincorsa e stare lì al momento giù e cazzate varie secondo me non serviva quindi questo lo abbiamo semplificato un pochino spero che questo glitch possa essere di aiuto a molti di voi a coloro che non hanno i soldi e per questo video è tutto ragazzi un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao